Un master universitario che prenderà il via a Lanciano in autunno. Un master in cooperazione internazionale di Saster Management e Aiuti Umanitari. Un master che darà la possibilità a giovani di avere maggiori crediti, quindi un curriculum formativo più elevato e soprattutto sbocchi di lavoro, in quanto il master, diciamo la cooperazione internazionale, è un campo che racchiude tantissime figure professionali che vanno dall'uomo di lettere fino allo scienziato. Quindi sono una possibilità in più per i giovani ma anche una possibilità per chi lavora sul campo in quanto garantisce alla protezione civile, ai militari della Croce Rossa una preparazione maggiore e un'adeguata formazione sul campo. Questo chiaramente porta all'organizzazione ad effettuare degli sconti del 30% sul prezzo che è di 1.100 Euro, però l'organizzazione ha deciso di effettuare questi sconti portando la somma anche a 800 Euro fino a 500 Euro. Quindi è un'occasione in più, faccio un invito ad iscriversi al più presto perché anche garantisce la possibilità alla città di Lanciano magari un futuro universitario che potrebbe essere sicuramente di ausilio per la città ma anche per la regione Abruzzo.